Il giorno dopo i nubi fragili che si sono abbattuti nel Brindisino è già iniziata la triste conta dei danni. Il violento acquazione che ha colpito i centri abitati e le campagne di Erchie, Torre Santa Susanna, Mesagne e San Pancrazio Salentino ha allagato strade e campagne, tanto da spingere i comuni interessati ad attivare tutte le verifiche tecniche necessarie per poter richiedere lo stato di calamità alla regione Puglia, a tracciare un primo bilancio delle perdite in agricoltura e la Coldiretti regionale. La bomba d'acqua ha colpito in particolare uliveti e vigneti di uva da vino, fa sapere l'associazione in una nota, ma anche pomodori e meloni e gli ultimi ortaggi estivi spazzando via i nuovi trapianti di verdure e ortaggi autunno-vernini. L'evento estremo si va ad aggiungere ai 121, prosegue Coldiretti, che si sono abbattuti sulla Puglia nel 2024, di cui venti solo in questi primi giorni di settembre, con tornado, grandinate, tempeste di vento e nubi fragili improvvisi e violenti che si abbattono su un territorio fragile. Coldiretti denuncia l'elevato numero di comuni pugliesi a rischio di sesto idrogeologico, 230 su 257, secondo l'associazione, e a pagarne i costi, oltre ai cittadini residenti, sono soprattutto le 11.692 imprese che operano nelle aree rurali. Il rischio idrogeologico con differente pericolosità idraulica e geomorfologica riguarda, rileva Coldiretti Puglia, il 100% dei comuni della BAT, il 95% dei territori di Brindisi e Foggia, il 90% dei comuni della provincia di Bari e l'81% dei comuni leccesi. Sono 8.098 i cittadini pugliesi esposti a frane e 119.034 quelli esposti ad alluvioni. Diventa strategica, conclude Coldiretti, la semplificazione burocratica e degli impegni amministrativi per le imprese che operano nelle aree interne, intervenendo sulla manutenzione del verde urbano per garantire la sicurezza anche nelle città, coinvolgendo direttamente le imprese agricole nelle iniziative di riqualificazione ambientale.